Lo sculatones, olè, olè Mia colpa, mia colpa, mia terribile colpa Ero al cinema del Corso Buenos Aires Interno 3 Al Codromodro E davano fiesta che viene la meraviglia Che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero Porforare 3 Mentre stavo osservando la pellicola Mi senti un affare durissimo in mano E lo strettei fortissimo e lo pigliei E non era un cioccolato e né una buglia Ma un pezzo di carne sembrava un filetto Che non si trova più neanche alla macelleria del Toros E me lo strettei forte, 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 forte In mano Era bello, era giocondo ed era mio Me lo portai in gelosito verso l'uscita All'effetto di carne c'era un uomo bello e alto Un biforrecuto che mi faceva impazzire Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme Un trittico Salimmo le caldite di corsa E lo portai alla giustanza Lo dedudai e lo baciai Fortemente su tutto il corpo Olì 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 Non si capiva più niente Lo prendivo da tutti i parti Negli delici dell'assa Dentro nelle buche delle orecchie E anche nelle buche delle orecchie Mi faceva impazzire Era una bella bestia Era una bestia che spingeva nelle buche delle corsa Lo spingeva e io traiva Che bell'uomo che era Calvo ma non troppo per quanto ci voleva Ci pigliava insieme la tabella di caffè E poi giù ancora Che mi faceva impazzire Moltissimo Molto moltissimo Cosa c'hai di briccoli? Ti domandavo Di dove parli uno scopone? Dammelo in mano Benissimo Sei un benissimo ragazzo E ora che stai per andarti Nel titolo di mio indirizzo Scrivimi verso le quattro Alla mia curia Cardinale Alfonso Fada Docente in signifilicomania E in praticità di campo Ti posso rispondere alle due Ma non per difetto Per concesso Perché sono i più grandi I più forti della zona Ti porto con me A Las Vegas Facciamo un viaggio a pagamento di sei giorni Torniamo subito in la lotta del Pacifico Ci buttiamo Dentro al panificio mondiale Dei rotti in culi genovesi Che si intensificano Nelle bande rotte Ho qui terminato Ciao Alla mia curia Ciao Grazie.